Si avvicina a uno dei periodi più importanti della stagione balneare, siamo quasi al Ferragosto, ma a Montesilvano c'è già chi sorride, parliamo della spiaggia che è accessibile a tutti, questa spiaggia importante e fortemente voluta da Claudio Ferrante. Sì, voluta da Claudio Ferrante, mi permetto di dire anche che grazie alla volontà fortissima del sindaco Ottavio De Martinis e dal mio braccio destro, se mi permettete, il consigliere comunale Manganiello, abbiamo fatto una grande squadra e che cosa abbiamo fatto? Abbiamo abbattuto le barriere culturali e architettoniche e abbiamo realizzato un sogno. Grazie a questa idea Montesilvano è diventata prototipo nazionale, non esiste un'altra spiaggia come la nostra e abbiamo dimostrato che la disabilità si può totalmente azzerare abbattendo in questo caso le barriere che l'ambiente ci pone. Se è vero che queste persone speciali vivono di emozioni, il mare che dà spesso emozioni, ecco che con Ubio si unisce, lei parlava di ragazzi che purtroppo vivono questo dramma e dopo 20 anni scoprono la bellezza del mare. Grazie per questa domanda, è proprio così, noi abbiamo persone che vengono da tutta Italia ma anche dall'estero, dalla Germania, dalla Svizzera e ci trasmettono delle emozioni grandissime. Persone che si sono fatte 1500 chilometri e sono venute a trovarci, hanno goduto della spiaggia e poi quando una mamma ti dice sono 20 anni che non riuscivo a far fare il bagno mio figlio e ora guarda quanto è felice, siamo arrivati ad un segnale, siamo arrivati ad un obiettivo grandissimo che è quello di davvero consentire a tutti di godere del mare, poi basta davvero poco, basta sgretolare le barriere culturali appunto.